Sabato 18 dicembre alle ore 16, nella sede del liceo Alfonso Gatto in via Fiamme Gialle, gli studenti, i docenti e il personale della scuola renderanno matto a Tommaso Gorga, tragicamente scomparso in un incidente stradale, il 18 settembre del 2021. Le lezioni erano appena iniziate dal 15 settembre, per l'esattezza, quando quel sabato sera ci fu comunicato che Tommaso non era più con noi, racconta il dirigente scolastico, dottoressa Anna Vassallo, fu un dolore immenso, una ferita profonda per una vita spezzata, solo i 15 anni. Tommaso frequentava la classe terza B dell'indirizzo scienze applicate, era uno studente e un compagno gentile, affettuoso, impegnato. Il suo banco non è stato rimosso perché Tommaso sarà sempre con noi, nei nostri ricordi più dolci. Con delibera del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, la scuola ha deciso di intitolare a Tommaso l'aula che stava frequentando all'inizio di questo anno scolastico. Saranno presenti alla cerimonia il dirigente scolastico, i docenti, i compagni di classe, i compagni del consiglio di istituto. La cerimonia avverrà alla presenza dei genitori. Carmine e Giovanna e dei parrucci Don Pasquale, Don Bruno, Don Carlo sono stati inoltre invitati anche i sindaci dei comuni di Agropoli e di Castellabate, Adamo Coppola e Marco Rizzo. È un modo per abbracciare i genitori di Tommaso e dire loro che la scuola non ha dimenticato perché non è possibile dimenticare un fiore così bello, riciso e troppo in fretta. Conclude il dirigente scolastico. Grazie. 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 Grazie.